Ciao ragazzi, bentornati nel mio studio, sono Davide Cura ed oggi ci divertiremo insieme con un po' di ear training, quindi allenamento dell'orecchio. Ho preparato per voi tre esercizi sugli intervalli che hanno un grado di difficoltà crescente. Nel primo esercizio suonerò degli intervalli melodici, che quindi presuppongono che una nota sia suonata successivamente all'altra, il che rende più semplice il riconoscimento dell'intervallo. Nel secondo esercizio suonerò gli intervalli armonici, quindi le note si sovrapporranno, bisognerà fare attenzione a separare i suoni per capire chiaramente l'entità dell'intervallo. E in più mi muoverò lungo la tastiera del pianoforte andando a lavorare sul range di frequenze differenti. Nel terzo esercizio ho aggiunto gli intervalli composti, ovvero sia quegli intervalli che eccedono l'ottava. Bene ragazzi, non vi resta che prendere penna e foglio, e possibilmente anche cuffio per sentire bene, vi suonerò gli intervalli per due volte. E dalla fine del video troverete le risposte corrette. Iniziamo! Grazie! 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 aggiornati sulle mie prossime pubblicazioni. Lasciatemi inoltre il commento scrivendomi quante risposte esatte per un esercizio avete dato. Ciao alla prossima! Grazie per la visione!